Ok, siamo qui, no no, macchina del Vane, e c'è la guida, Alessandro, spegni la musica. Ale, Ale, sorridi alla telecamera prima. Ok, ok, acceso la macchina, messo la prima, sterza. Bella, stiamo andando, spegni la musica, stiamo andando, tutto dritto. Ostrega sulla neve, bella, gira, gira, c'è l'era un po', gira, caramba, caramba, no, scherzo, sta girando, gira, gira tutto, metti la seconda. Mettila la seconda, ok, ha messo la seconda. Figa, che boss, gli ho avuto il bacchino con Ale. Metti la retro. La terza. Lui la bacca. Vai fino adesso di lì, si, 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 si. Io non capivo cosa volevo dire. Via, tu. Pianca, Ale. Sei tranquillo, si. Ti vanni con la mano, o, strega, che lecca. Andiamo a girare tutto così, fanno i 6 movimenti, sennò mi spaccio tutte le rocche, vai. Guarda dietro, guarda dietro che non ti fa colpo che a vero ti ammazzo. Guardiamo dietro. Vai Ale, vai dietro, vai vai! Vai, vai che c'è spazio! No, la stessa è piano piano. Vai vai, ce n'è, ce n'è! Vai Ale, vai figa, c'è un camion indietro. Buona, bene, bene. Ostri, gira! Prima, prima, metti a prima, se no si spacchia le ruote. Sente, vai, se no mi faccio tutto. Eh, va bene, vai! Se ne ho fatto allo spazio, ne ho fatto. Sì, ho tutto, vai! Senza tutto! Vai, si fai molla, via sezione, generatore. No, vai, vai Ale, vai, che la fai! Senta. Nooo, ha spento la macchina! Ti farò sentire, ragazzi. Vai, prima! Prima. Senta. Aspetta, aspetta, sei folle. No! Eh, ma sono credito! Eh, sono! Vai! Ero in terza! Vai! Ero in terza! Ale, vai! Prima, seconda e terza, vai! Dove vanno qua? 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 Ostro, ragazzi! Ostro! Ero via! Ma che curva! Vai! Chiacca la sec... Si, ma non riesce ad entrare quale! Nozione! Gira, gira, gira tutto, gira tutto, gira tutto! Minchia! Vai! Fia, che culo! È... Oh no! Oh no! Oh no! È un altro atteso! Non lo vedo!